Cari pellegrini, è iniziata la settimana santa e mia intenzione è dedicare gli editoriali di questa settimana ad alcune questioni legate appunto alla passione di Nosso Signore Gesù Cristo e oggi voglio parlarvi di una figura che sembrerebbe non avere un rapporto diretto con la passione nel senso che non è un personaggio che di fatto ha vissuto la passione di Nosso Signore Gesù Cristo in quel preciso momento ma ha vissuto comunque la passione nella sua vita e si tratta di San Pio da Pietrelcina. Voi sapete bene che questo grandissimo santo, un vero e proprio dono della provvidenza nel ventesimo secolo, è l'unico sacerdote stigmatizzato. San Francesco d'Assisi per esempio ricevette le stigmate ma San Francesco d'Assisi arrivò al diaconato, non venne ordinato sacerdote per suo esplicito volere. San Pio da Pietrelcina è l'unico sacerdote stigmatizzato ma poi c'è da dire che San Pio da Pietrelcina ha portato i segni della passione per ben 50 anni. Le stigmate divennero visibili il 20 settembre del 1918, sparirono il 20 settembre del 1968 e di lì a poco meno di tre giorni, il 23 settembre, nella notte tra il 22 e il 23 settembre, San Pio spirò. Ora perché voglio parlarvi di San Pio da Pietrelcina perché molti si sono chiesti, fra cui anche il celebre editorialista del Corriere della Sera, scrittore cattolico, best sellerista come Vittorio Messori, dice ma perché un santo di questa portata la provvidenza l'ha suscitata dal sagno? Poteva benissimo suscitarla da un altro luogo del mondo. Perché dal sagno? È evidente che le scelte che la provvidenza fa hanno sempre un ben preciso significato, poi questo significato ci può sfuggire, però il significato c'è. E allora alcuni hanno pensato ovviamente è un'ipotesi per carità, però è un'ipotesi molto ma molto credibile. Allora prendiamo la figura di Ponzio Pilato. Pensate che la figura di Ponzio Pilato è una figura importantissima, non solo per quanto riguarda la dinamica della passione, poi eventualmente ci ritorneremo su questa figura, ma è un personaggio che viene citato tantissime volte ogni giorno in tutte le parti del mondo, perché basta recitare il credo per affermare patì sotto Ponzio Pilato. Ebbene, Ponzio Pilato era sannita. Ci sono tre versioni in merito alla sua nascita. Alcuni lo vogliono dell'Abruzzo meridionale, che comunque faceva parte del sagno. Altri invece, che sembrerebbe essere la versione più attendibile, lo vogliono o della zona del Telesino, che è molto prossima, molto vicina alla città di Benevento, dove io risiedo, oppure nella zona di Mirabella e Clano, Tufo, che comunque è anch'essa molto vicina, anzi addirittura ancora più vicina rispetto al Telesino, alla città di Benevento. Voi sapete che San Pietro di Pietrelcina è appunto di Pietrelcina, che è a otto chilometri dalla città di Benevento, quindi nel pieno sagno. Quindi Ponzio Pilato era sannita. Ora, ci dicono i cultori di storia romana che quasi sempre i soldati dei vari governatori provenivano dalla stessa zona di provenienza del governatore stesso. Nel senso che quando un governatore partiva per una diminata provincia e quindi per andare a governare quella provincia, non solo portava con sé la famiglia, gli schiavi, le ancelle, eccetera, ma portava anche un numero relativamente consistente di soldati di sua fiducia. Per cui qualcuno dice giustamente, cioè nel senso che siamo qui nel campo della vero simiglianza, che è altamente probabile che i soldati che abbiano flagellato Gesù e abbiano poi crocifisso Gesù erano anche loro sanniti. Per cui da qui questa riflessione. Perché non pensare che la provvidenza abbia voluto suscitare questo gigante della santità come San Pio da Pietrelcina per compensare dal sagno, per compensare ciò che altri sanniti avevano fatto ai noi nei confronti di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi un santo sannita per compensare ciò che altri sanniti avevano fatto al nostro Signore Gesù Cristo. Certo, è un'ipotesi, un'ipotesi intrigante, che non solo però ha dei fondamenti storici, ma ha anche un fondamento di carattere teologico, perché essendo Dio somma giustizia tutto deve essere compensato e quindi ci deve essere anche una sorta di compensazione legata all'identità delle culture, legata all'identità dei luoghi, legata all'identità in questo caso per esempio non di luoghi molto circoscritti ma come possono essere delle regioni e via discorrendo. Un'ultima cosa prima di terminare, che fine ha fatto Ponzio Pilato? Qui ci sono due versioni, noi speriamo nella prima, la prima dice che Ponzio Pilato poi abbia capito e quindi si sia convertito grazie anche alla moglie Procula e addirittura sia morto santo, sia morto martire e quindi in alcuni cristianesimi orientali viene addirittura venerato come santo. C'è un'altra versione invece che lo vuole morto disperato, c'è un lago molto piccolo in Abruzzo e molto in alto, in montagna, che si chiama Lago di Pilato perché verso il tramonto l'acqua si colora di rosso, in realtà si tratta di un gioco di luce solare con delle alghe particolari che si trovano in quel lago e c'è una tradizione che dice che sarebbe il sangue di Pilato perché negli pressi di quel lago Pilato venne attaccato da un cane famelico, da un lupo eccetera che lo sbranò, quindi come forma diciamo così di castigo. Noi speriamo ovviamente nella prima versione. Bene, cari pellegrini, terminiamo qui, ci diamo appuntamento al prossimo editoriale, vi saluto sempre caramente ricordandovi che Dio è verità, bontà e bellissima.